Mi scricchierano i suoi stivali. È irritante. Fratevi prendere i Timberland, non le imitazioni, capito? E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Terza missione di GTA V. Siamo ancora con Franklin nelle missioni per Simeonietarian e questa volta, con complicazioni, andremo a conoscere un nuovo personaggio. Prima di passare al gioco, vi chiedo sempre di lasciare un like al video, iscrivervi al canale. Nella missione scorsa, come sempre faccio il briefing, abbiamo combattuto per la prima volta la scorsa missione, prendendoci una moto in maniera anche abbastanza bella, repentina e tosta. E oggi proseguiremo con ancora il nostro Franklin, ovvero un impiegato del mese, a portare a compimento missioni per Simeonietarian. Dare la lina a Los Santos. Lamar, se ci sta per uscire... Aspetta. Ok, sì, stretch. Missione stretch in libertà, come no? Hanno tolto la macchinina bellina, che palle. Vabbè. Simeon? Simeon? Perché sei chiuso dal dietro? Che cazzo ti succede? Comunque, giuro che d'ora e un po' cercheremo di fare le missioni di giorno, perché di notte... Ne. Ah, c'è l'entrata al davanti, ok. C'è l'entrata al davanti. Il figlio di Michael. Che brutto, ragazzi. SUV. Sì, anche per me è un piacere. Grazie. Ma che cazzo. Grazie per la macchinina. Che sicuramente apparterà qualche bischero che un paga. Ma son cazzo i suoi mo'. Adoro sta canzone. Baker Street. Me la segno. Abbiamo cambiato. Ci chiamano. No. No. No, I am sure. You'll get this car off the daddy's boy and then we talk. Insurance papers say they have a lot of garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you. He is a simi. Do not talk to me about easy, you thief. Aia. Peso. Chi è che canta Don Johnson? Mi devo un po' rifare la playlist, scusate. Quindi se guardo i brani non incolpatemi, dai. Dai, comunque missione easy-peasy questa, eh. Ecco. Ecco. Dobbiamo essere sicuri di essere disarmati questo. E' importante. Modalità furtiva. Morto. Mi scricchierano i suoi stivali. E' irritante. Fratevi è prendere i Timberland, non le imitazioni, capito? Du-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. È proprio perché hai un gigante giapo, madre primavera! Fratevi è morto! precursor! Ho aggiustato darei un gigante giapo! Forse perché è vero! Destino di azzo! Vai, vai in camera, zitta. È evitato di mettere i residenti in allarme. Ok, ci siamo, ci siamo. E' quel bastardo che sta dormendo lì dentro, va da lì, va da lì. Pulito, pulitissimo. Vabbè dai ragazzi, ma ste prime missioni, dai. Che pretendete? Ecco, non dovevi chiamare Simeon. Ecco, così mi aiuti a guidare più che altro. L'inferno! Grande macchina! Questo qua c'ho le palle quadrate, altro che. C'è un car dillard, c'è il nome di Simeon Yatarian. E questo businessman, si sembra legato a te? Guarda, è proprio tra lui e il tuo figlio. Non preoccuparti. Mi e il Mr. Yatarian, ci siamo a lavorare questo. Questo il posto? Sì, è il posto, ragazzi. Oh! Povero Franklin, che stava facendo solo il suo lavoro. Vabbè. Bomba! Oh! Oh! What the fuck are you doing? Mr. Simeon, it's not exactly how it looks. I always trump bigger for a job well done. Get out of here, kid. You motherfuckers! Simeon yatarian da... Vai! Oh! Ma... Fai qualcosa? Come on, do something, Simeon. Minchia, neanche un colpo ci ha inflitto. Fucking racist. Oh, che un racist. Oh, che un racist. Ha, ha, ha. I'll tell you something. This thing's gonna need some serious bodywork for it. It's worth five grand a month. Ah, he agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some bunk break into my fucking house? I, I just don't know. Oh, yeah. That kid might be a fucking idiot. But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Oh! Don't make me have to come back here. Oh, peso. Spento. E fu così. Che ci guadagnammo? Michael. Ecco, anche qua. Stesso discorso della missione scorsa. Devi saltare le cazzine per fare 100%. Quindi, se non consideriamo l'obiettivo tempo, questa missione è andata al 100%. Dato il discorso che vale anche per GTA The Ballad of Get Ony che vi ho portato. Sempre legato a quel, a quel discorso lì. Va bene, ragazzi. Io, così, a giro per Los Santos. Vi saluto. Aspetta, c'è una chiamatina prima. Ok, fammi vedere come funziona il taxi. Totalmente il contrario di GTA 4. devi tenere premuto per rubarlo. Il che ha molto più senso. Grazie, ragazzi, della visione. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, noi ci vedremo per la missione numero 4 che sarà padre e figlio. Però non comprenderà la partecipazione solo di Michael, ma comprenderà anche la partecipazione di Franklin. Like al video, iscrizione al canale, noi ci vediamo la prossima volta. Restate sintonizzati sul canale di Adri. Bacione.